Giustizia, bene comune. Spazio in collaborazione con Feder Consumatori Rimini. Ben trovati, Giustizia, bene comune. Il nostro appuntamento è ormai consueto del mercoledì. Oggi parliamo di un argomento importante perché quando si parla di vacanze le orecchie si drizzano. Specialmente quando si parla di vacanze dove qualcosa non funziona proprio a pennello perché insomma quando uno si prende qualche giorno dal lavoro vorrebbe che tutto fosse perfetto. Purtroppo alle volte non è così. Diamo il buongiorno innanzitutto all'avvocato Eleonora Pinna. Buongiorno. Consulente della Feder Consumatori Rimini. Sono tante le richieste che vi arrivano su quella che viene definita vacanza rovinata. Sì, il danno da vacanza rovinata che è insomma un po' come uno spauracchio per tutti i turisti che vogliono andare in vacanza e riuscire a rilassarsi un po'. Succede spesso che in Feder Consumatori arrivino persone che tornano da viaggi che in realtà sono ben diversi rispetto a quelli che le agenzie avevano promesso. Tra l'altro insomma di questi giorni sono notizie poi di carattere più penale che da associazione dei consumatori però per due settimane consecutive le forze dell'ordine sono uscite a bloccare questi truffatori che mettono delle case vacanza da affittare online. Tra l'altro una di queste era anche una riminese, 33enne, che è stata fermata dai carabinieri. Poi la gente va e la casa di fatto non c'è ma intanto questi sono presi la caparra. Quindi insomma quando si parla di vacanze la rilassatezza deve cominciare quando si è arrivati sul posto, non prima perché altrimenti si corrono dei rischi. Partendo dal mezzo col quale si arriva al luogo di vacanza perché anche con i voli non sempre le cose filano lisci. Cosa può succedere? Come ci si può comportare? Sì, diciamo che molto spesso con i voli purtroppo il turista si trova ad assistere o alla cancellazione del volo, quindi il volo proprio non parte per cui la compagnia aerea dice che su quel volo non ci si può imbarcare perché non c'è e quindi cancellazione totale. Oppure il cosiddetto overbooking, cioè l'eventualità in cui il consumatore ha il biglietto, arriva in aeroporto, gli viene fatto il check-in ma poi gli si dice tu non puoi più salire sul volo. Perché non c'è il posto? Perché non c'è il posto? Questo perché vengono a volte venduti più posti rispetto a quelli che sono in realtà disponibili sull'aereo. E quando accadono cose di questo tipo? Come ci si deve comportare? Allora la compagnia aerea deve fornire al consumatore o un volo alternativo che deve essere vicino nell'orario rispetto a quello che è il volo ovviamente che il consumatore aveva comprato o deve dare un rimborso del biglietto e un indennizzo quindi dare un ristoro economico di quello che è il disagio subito dal consumatore. Poi ci sono altri casi, quello del ritardo, quello più che un caso è un'abitudine del bagaglio che viene perso, anche questi sono situazioni nelle quali il consumatore vacanziere può in qualche modo muoversi. Sì, nel caso di ritardo diventa diciamo rilevante nel momento in cui il ritardo è superiore alle tre ore. Quindi se c'è un ritardo inferiore alle tre ore il consumatore purtroppo non può fare nulla. Se è superiore alle tre ci sono anche qui previsti degli indennizi che variano a seconda della tratta, quindi del chilometraggio. Per quanto riguarda il bagaglio, ecco, il consiglio che diamo sicuramente è non uscire senza bagaglio dall'aeroporto perché a volte i consumatori non sanno che devono fare la denuncia di smarrimento del bagaglio direttamente in aeroporto in un ufficio che si chiama Lost and Found e quindi da lì poi parte tutto l'iter. Se escono è fatta. Anche nel caso in cui il bagaglio si è danneggiato perché molte volte arriva la valigia che non ha più la presa, si è rotto alla rotellina. Sì, anche se è danneggiato, soprattutto se è danneggiato perché se si esce con il bagaglio ovviamente poi non c'è più la prova che il danneggiamento sia avvenuto durante il trasporto aereo. Quali sono i casi più frequenti che vi capita di seguire da questo punto di vista? Per quanto riguarda il danno da vacanza rovinata, soprattutto alberghi completamente diversi rispetto a quello che era stato promesso. Quindi i consumatori che comprano un pacchetto con albergo a 5 stelle e si trovano invece magari, passatemi il termine, in una bettola. Quindi alberghi molto inferiori rispetto a quelle che erano le condizioni pattuite. Oppure che comprano dei servizi come escursioni e queste non vengono date in loco. Quindi pacchetti diversi rispetto a quello che è stato promesso al consumatore. Il De Plian dice una cosa, fa vedere una cosa, poi sul posto la realtà è ben diversa. Tra l'altro bisogna anche intendersi sul concetto di pacchetto vacanza, perché molte volte si va in agenzia, vengono venuti dei pacchetti vacanze. Quando si parla di pacchetto cosa si intende? Il pacchetto, che è quello che dà diritto ad avere la tutela del codice del turismo, vuol dire un insieme di almeno tre elementi che sono indicati nel codice. Cioè il viaggio, per cui l'agenzia deve aver organizzato il viaggio di trasporto, il soggiorno e i servizi accessori, come per esempio appunto le escursioni. Quindi almeno due di questi tre elementi formano il pacchetto turistico. Quando uno va in un villaggio vacanze, in un albergo che non è come dovrebbe essere, anche lì come deve comportarsi? Deve avere delle prove di quello che poi sostiene, insomma, quindi oltre a fotografare i paesaggi deve fotografare anche il letto cigolante o rotto, il bagno sporco? Assolutamente sì, perché innanzitutto bisogna fare un reclamo in loco, quindi subito, immediatamente nell'albergo. Però bisogna anche provare quello che è successo, perché ovviamente poi si torna in Italia e chi ci dice che quell'albergo non era come l'avevamo scelto e come c'era la foto nel dépliant. Quindi fotografie, testimoni se ci sono. E in questi casi è facile o difficile poter ottenere un ristoro del proprio danno subito, insomma? Beh, è abbastanza facile, nel senso che nel momento in cui ci sono le prove, quindi effettivamente c'è una diversità fra quello venduto e promesso e quello che si è trovato in loco, a quel punto il danno economico viene sicuramente risarcito, cioè inteso come l'esborso maggiore rispetto a quello che ci si è trovati lì ad ottenere. Il danno esistenziale, cioè giurisprudenza, che insomma si sta evolvendo e che risarcisce in via equitativa, quindi c'è la possibilità. C'è qualche caso recente per poter esemplificare un po' anche quello che vi capita sotto mano? Beh, c'è una signora che si è presentata in Federconsumatori, aveva comprato un pacchetto per andare in Sudafrica, gli avevano promesso un albergo nel centro di una città, come dire, abbastanza viva, con foto bellissime, si è trovata invece in una casa dove non c'erano mezzi di trasporto, lontanissima dal centro, si doveva fare, se voleva andare in centro, un'ora di camminata a piedi al buio. Quindi insomma direi che è abbastanza complicato, con infestazione di animali nella casa. Come ciliegina sulla torta. Quando accadono queste cose relative ai pacchetti di vacanza, chi è il contraente? Cioè a chi ci si deve rivolgere? All'agenzia? Al tour operator? Ad entrambi. Cioè bisogna mandare entro dieci giorni dal rientro dalla vacanza, una raccomandata con ricevuta di ritorno e per sicurezza sia all'agenzia viaggi che al tour operator. E' fondamentalmente l'agenzia viaggi quella che è responsabile nei confronti del consumatore, perché è l'agenzia che ha venduto il pacchetto, ma anche nei confronti del tour operator c'è una responsabilità. Quindi è raccomandata ad entrambi entro dieci giorni per essere tranquilli, perché poi se vengono superati questi dieci giorni ci sono un po' di problemi. Possono esserci delle contestazioni. Sì. Tra l'altro la questione delle vacanze è regolamentata da un codice a partire dal 2011. Cosa prevede questo codice? Ha semplificato un po' le procedure? Sì, il codice del turismo è stato proprio, come dire, creato dal legislatore in forza delle spinte europee. Prima la normativa era contenuta nel codice del consumo. Ha un po' messo insieme tutti gli elementi di risarcimento del danno del consumatore che abbiamo guardato e insomma di cui abbiamo parlato, quindi dà una tutela sicuramente più forte al consumatore. Consumatore, insomma, hai esemplificato uno dei casi di chi si rivolge a voi. Quanto tempo serve per poter avere risposta a questi reclami? Si tratta di tempi lunghi oppure si riesce ad ottenere risposta in breve? Beh, dipende un po' dall'agenzia. Tendenzialmente si danno fra i 15 e i 20 giorni per la risposta al reclamo. Non è sempre detto che tutte le agenzie rispondano tempestivamente. Quindi se c'è un atteggiamento collaborativo, in alcuni casi noi siamo riusciti anche ad ottenere il ristoro immediatamente senza dover andare in causa. In altri casi invece poi bisogna radicare il giudizio e davanti al tribunale o al giudice di pace, a seconda della competenza, gli ovviamente i tempi sono un po' più lunghi. Però, insomma, il risultato di solito si ottiene. Pensare un po' nel dettaglio di due concetti, pregiudizio economico e danno morale, per capire proprio cosa si intende e, insomma, che tipo di rimborso danno diritto. Sì, il pregiudizio economico nel caso di danno da vacanza rovinata va identificato proprio con l'esborso che il consumatore ha avuto nel momento in cui ha comprato il pacchetto e non ha usufruito o dell'intero pacchetto perché addirittura non è potuto partire, o di una parte del pacchetto o dei servizi. Quindi, se io ho pagato per un'escursione e quell'escursione non me la fanno fare, ovviamente io ho quei soldi, ho diritto di averli indietro dall'agenzia. E per quanto riguarda invece il cosiddetto... Diciamo che è quello un po' più semplice da calcolare. Sì, è più facile perché ci sono ovviamente i pagamenti, gli scontrini, quindi è proprio il danno economico che il turista ha subito. Invece il danno esistenziale, il cosiddetto danno da vacanza rovinata, è un po' più difficile da provare perché ovviamente non è un danno economico, ma consiste nella perdita di chance da parte del consumatore di godere del momento ricreativo, di godere della vacanza. Però anche su questo la giurisprudenza ha detto che seppur in via equitativa, quindi è un po' difficile quantificare a monte per tutti, il risarcimento c'è. La cosiddetta è più soggettiva, insomma. Quindi dipende anche da giudice a giudice. Da giudice a giudice, dalla composizione della famiglia, per esempio se ci sono bambini, se non ci sono bambini, quante persone sono, quindi insomma dipende dal caso. È possibile in qualche modo tutelarsi? Ci sono delle assicurazioni, dei modi di darsi una garanzia anticipata quando si va in vacanza? Sì, a volte le agenzie propongono, a volte non lo fanno, ma il consumatore se sa che c'è può chiederlo, di stipulare proprio delle polizze, che quindi coprono l'eventualità di, il cosiddetto danno da vacanza rovinata. Addirittura c'è un fondo di garanzia istituito, e nel caso in cui l'agenzia viaggi fallisca, fallisca e quindi non possa pagare le somme previste, in modo tale da tutelare, come dire, il consumatore e andargli incontro nel corrispondere ai soldi. Una cosa secondo me importante da sottolineare è che quando si guarda un depliant e poi in base a quello si decide in che posto andare, non è una semplice indicazione come quando vediamo le foto della torta che dicono è solo una foto, poi può non venirti così. Sono comunque cose che vincolano. Assolutamente sì, cioè il depliant è proprio previsto nel codice del turismo, è vincolante per l'agenzia che lo consegna, quindi è una sorta di parte del contratto, per cui se in quel depliant viene indicato un determinato albergo con certe caratteristiche, con la fotografia che fa vedere che quell'albergo è sulla spiaggia, non mi potranno fare avere, nel momento in cui io arrivo in loco, in vacanza, un albergo che invece si trova sulle colline, perché è proprio una condizione essenziale del contratto sottoscritto. Per quanto riguarda i prezzi, quelli che magari vengono pattuiti, poi vengono ritoccati, perché può capitare insomma anche questo? Sì, il codice prevede che le agenzie viaggi possono cambiare il prezzo del pacchetto soltanto se è espressamente previsto nel contratto e se è collegato questo cambiamento di prezzo ad esempio un aumento del carburante, un aumento delle tasse aeroportuali, ma comunque non deve essere superiore al 10% dell'importo. In questo caso, se l'agenzia aumenta il prezzo, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto e di avere indietro le eventuali carri, i soldi che magari ha già versato. Quindi non ci perde nulla in questo caso. Non ci perde nulla, se il prezzo è di più del 10% e comunque non può essere fatto prima dei 20 giorni della partenza. Quindi insomma... Ci sono delle tutele, in questo caso si può agire direttamente senza dover passare da intermediazioni, da legali e via dicendo? Certo, si può fare direttamente perché il consumatore può fare la richiesta formale all'agenzia e l'agenzia, sapendo che è un diritto del consumatore, dovrebbe concederglielo. Poi, se non lo fa, ovviamente insomma c'è chi ci pensa ad essere un po' più insistente con l'agenzia. Ci sono altri aspetti, altri ambiti che vi vengono sollecitati oltre quelli di cui abbiamo parlato in questi minuti? Beh, per esempio, è successo in Feder Consumatori che un turista si è presentato da noi perché aveva richiesto ad una agenzia intermediaria di procurargli un visto per andare a fare un viaggio in Africa e il problema è che aveva espressamente detto quando doveva partire, quindi il momento entro il quale gli serveva il visto e questa agenzia gliel'ha fatto avere più tardi e quindi non è potuto partire, cioè non ha più potuto prendere il volo. E in questo caso, insomma, la problematica è stata abbastanza importante perché c'è stato l'esborso del volo, erano già stati prenotati degli alberghi in loco e quindi, insomma, era una coppia di marito e moglie per cui c'è stata una perdita di un bel po' di soldi. Possono capitare o vi sono capitati anche casi di problemi medici che avvengono quando uno è in vacanza, che ne stava anche mangiando qualcosa nella stessa cucina dell'albergo, del villaggio, che non era proprio in perfetto stato di conservazione? Eh, in questo caso diciamo che ovviamente dipende da caso a caso perché ci sono delle località che sono più esposte, diciamo, a questi rischi proprio per l'indicazione geografica di dove si trovano e qui è un po' più fatica. Però ovviamente se la problematica di salute è collegata a cibo variato o a una condotta non corretta da parte dell'albergatore, lì è assolutamente richiesta di risarcimento danni. Assolutamente sì. Bisogna valutare anche in questo caso di caso in caso. In caso. Io vorrei, insomma, abbiamo già parlato di tante cose. Qualche consiglio a chi decide di andare in vacanza, sta studiando i suoi bei depliani, insomma, su cosa deve porre maggiore attenzione per evitare, nei limiti del possibile, di incorrere in una vacanza rovinata? Che ci siano scritte le caratteristiche del viaggio che ha scelto nel contratto, perché il contratto che si firma in agenzia deve essere un contratto molto particolareggiato. Quindi, se si comprano delle escursioni, devono essere indicate. Le tipologie di albergo che si sceglie, quindi se sono due stelle, tre stelle, quattro stelle o cinque stelle, in modo tale che tutto quello che si vuole avere sia indicato per iscritto. Così, se quando si arriva in loco c'è una diversità, a quel punto è molto più facile poter dire mi avete venduto qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo scelto. Quindi tenete sotto mano anche il foglio con tutte le caratteristiche, nell'eventualità non coincidono, armatevi di macchina fotografica e fotografate, perché questo è un consiglio. Assolutamente fotografate, conservate gli scontreni di tutto quello che eventualmente si acquista a causa, come dire, della vacanza rovinata, a causa delle diversità di prodotti fornite e eventualmente se ci sono testimoni, quindi altre persone in loco che possono venire a dire quello che hanno visto, prendere nome, cognome, residenza, possibilmente italiani, perché se non può faticare per irli e quindi munirsi già quando si è in vacanza di tutti gli elementi per poter provare quando si torna a casa qual è il danno che si è subito. È anche possibile provare a contattare l'agenzia sul posto, nel senso che senza lasciare passare tutta la vacanza in un posto che non è come quello che ci si attendeva o che doveva essere, è possibile cercare di cambiare il proprio destino subito? Sì, perché le agenzie viaggi nel momento in cui vendono dei pacchetti turistici al consumatore devono anche fornire dei recapiti, quindi il consumatore non deve essere lasciato un po' alla balia degli eventi, deve avere un riferimento telefonico di una persona da contattare nel caso ci siano problemi e quindi bisogna farlo subito presente perché a volte è anche vero, bisogna renderne conto che le agenzie magari si attivano e trovano delle soluzioni alternative, quindi magari se il primo giorno va male, dal secondo giorno in poi effettivamente riescono a ricollocare il consumatore in un ambiente più consono. Quindi insomma non è necessario passare tutte le vacanze a fotografarsi intorno, si può provare a ritornare alla normalità subito e godersi i giorni che restano. Sì. Ringrazio l'avvocato Eleonora Pina della Federo Consumatori, speriamo di esservi stati utili con queste indicazioni su come comportarvi in caso di vacanza rovinata, l'appuntamento con giustizia bene comune torna come al solito mercoledì prossimo. Grazie e alla prossima. Grazie. Giustizia, bene comune. Spazio in collaborazione con Federconsumatori Rimini.